partite da questo presupposto che io questo video non lo volevo fare no 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 comunque ci tocca ci tocca e dobbiamo fare per forza questo video ma come non fare questo cazzo di video il discorso dove sta di sta che comunque sia si parla di perugia perugia che mi fa sempre delle sorprese allucinanti diciamo che non mi annoio mai a sentire determinate notizie io vado a vedere come tutti i tifosi determinate notizie e che cosa succede c'è il caos totale certo è che comunque sia non ci fermiamo mai nemmeno il tempo di festeggiare come giusto che sia e come appunto si merita una vittoria di campionato di serie c e quindi ufficialmente appunto il perugia viene e sale di nuovo in serie b nemmeno il tempo di festeggiare questo nemmeno il tempo di dispiacersi per una supercoppa di derby non non vinta cosa succede succede la terra antella in chiave allenatore ragazzi in perché comunque sia come giusto che sia e poi apriamo questo discorso il mister caserta perché ancora tuttora c'è mi sembra un incubo non non averlo più con noi perché fondamentalmente adesso i giochi sono fatti francamente non è più l'allenatore il mister appunto del perugia francamente a me dispiace molto e poi dopo ce ne ritorneremo sull'argomento perché appunto devo dire delle cose su caserta però fatto sta adesso parliamo di altro adesso parliamo che comunque caserta e adesso sì sì adesso mi scateno e succede che comunque sia caserta si ferma un attimo e dice cavolo io non voglio fare i stessi errori della mia situazione con la juve stabia perché comunque sia è un allenatore giovane chi ha iniziato con la juve stabia ha vinto il campionato di serie c e torn è arrivato diciamo in b poi purtroppo ci sono stati gli sbagli e comunque sia poi arriva la sua occasione l'occasione appunto di allenare nel perugia dove fa bene perché dalla c appunto vince il campionato saliamo e ci ritroviamo in serie b quindi ha fatto un altro anno spettacolare è rientrato appunto nei record degli allenatori che hanno passato la storia del perugia quindi non da poco ve lo ricordo non da poco perché comunque sia negli allenatori ha fatto il record e di conseguenza è appunto ricordato tra i migliori allenatori voglio risottolinearlo tra i migliori allenatori del perugia questo non dobbiamo dimenticarcelo mai ragazzi e appunto quest'anno ha voluto mettere un attimino i puntini sulla e bis considerato che l'anno scorso appunto si era trovato male in serie b puntini sulla i ragazzi che non è in chiave economica ma è in chiave gestionale nel senso che comunque lui dice va bene io resto non ho nessun tipo di problema a rimanere anzi mi va bene rimanere nel perugia ma io devo avere i miei mezzi lui ha fatto io so che ha fatto una richiesta di 10 giocatori e so anche che non ha richiesto giocatori tipo messi o i bravi ma ha chiesto di giocatori funzionali perché ricordiamocelo che lui è un allenatore che tira fuori il 100% anche in giocatori appunto che hanno dei limiti e lui ne trae solamente benefici quindi questo voleva fare con i 10 innesti che ha chiesto ovviamente siamo consapevoli che i giocatori che stavano in C che hanno fatto veramente un'annata molto importante in chiave per Uzza abbiamo affrontato un anno veramente difficile e veramente ci siamo supportati e abbiamo fatto squadra tutti dai tifosi a praticamente l'allenatore e i giocatori quello è assicurato noi siamo stati vicino a loro fino all'ultimo l'allenatore fino all'ultimo ci ha creduto assolutamente di vincerlo questo campionato e i giocatori anche hanno creduto nel loro potenziale e così è successo tutti noi appunto tifosi e ero appunto in live da Kartal e se ne è parlato tantissimo anche nel processo del grifo appunto si è parlato che comunque i giocatori che comunque avevano fatto bene avevano vinto il campionato non potevano assolutamente competere con una serie B e quest'anno è veramente ossia il prossimo anno sarà veramente una serie B con i controcavoli quindi di conseguenza di che cosa ci parliamo cosa stiamo parlando di che cosa stiamo parlando la richiesta di caserta era legittima perché già sapevamo che comunque quanti i tre quarti della nostra squadra andavano cambiati andava fatto una sessione di mercato al signor santo padre gli sono entrati 12 milioni più e più nel senso che comunque sia 12 milioni ovviamente prossimo anno ci sarà la serie B quindi di conseguenza i diritti comunque verrà pagato da da son o quale sarà la piattaforma appunto dove si potrà andare a vedere la serie B credo anche sky fatto sta il signor santo padre appunto per l'appunto sapeva perfettamente che se andava in serie B doveva spendere assolutamente soldi nel mercato e il discorso della richiesta di caserta di 10 giocatori non è la scoperta dell'america si sapeva tutti i giocatori tutti scusatemi i tifosi ne erano coscienti che comunque dovevamo dimezzare almeno la squadra perché non potevamo andare avanti così faccio un nome su tanti sapete perfettamente che io amo a prescindere melchiorri ma io mi rendo conto anche che melchiorri data la sua da la sua età e data comunque sia quello che ha dato l'altranno in serie c l'abbiamo spremuto come limone ovviamente non è che possiamo non possiamo assolutamente portarcelo in serie B in serie B dove praticamente cosa succede ci sono delle squadre veramente competenti quest'anno sarà l'anno ossia il prossimo anno sportivo sarà appunto il diamante di attrazione diciamo la serie B perché sarà veramente interessante vedere tutte queste squadre messe insieme sarà veramente complicato e sarà complicato anche non retrocedere non credete che sarà un gioco da ragazzi e di conseguenza un giocatore come melchiorri che ha dato tanto in serie B non possiamo riportarcelo in serie B e fargli fare di nuovo le partite non ce la farà quindi conseguenza si sapeva questo è un esempio come tutti gli altri che comunque dobbiamo dimezzare la squadra e fare mercato su questo non ci più adesso parte l'incazzatura pura allora nel momento in cui il presidente dice appena possibile torneremo in serie B c'è stato uno uno tra tanti il mister che ci ha portato in un anno in serie B ora salto padre penso e mi auguro mi auguro perlomeno che non volevo fare un mercato di due trecentomila euro o prendere gente in prestito perché comunque sia sono tanti i giocatori che vanno cambiati quindi di conseguenza cosa succede io davo per scontato io addirittura azzardavo a dire beh voglio dieci milioni nel mercato per fare meglio perché comunque sia in serie B ci sono veramente delle squadre fortissime quest'anno e io mi auguro e ve lo dico ve lo ripeto mi auguro ma non sarà così da quanto ho letto da quanto ho capito ci sarà un mercato decente cioè perlomeno io me lo aspettavo visto e considerato che avevamo bisogno a gennaio di forze fresche avevamo bisogno non c'entra avanti cosa che non c'è stata data cosa che non c'è stato dato il supporto del mercato di gennaio di ripetrazione che cosa io mi aspettavo che quest'anno ci fosse stato un mercato migliorato che cosa succede a questo caserta tentenna o comunque ci pensa vuole vedere bene qual è il progetto della società società inesistente società che comunque sia si è visto che comotto ne dice una e appunto santo padre ne dice un'altra questa è stata appunto il teatrino che noi abbiamo visto l'altro anno si vede a ripetizione sempre la stessa filastrocca sempre la stessa fiabba perché comunque sia succede sempre così non si sa come mai però fatto sta da fonte certa io so che caserta non ha mai fatto questioni economiche non ha mai alzato il tiro non se ne è mai curato diciamo delle società che comunque lo cercavano quindi ho tralasciato questo il benevento comunque sia lo cerca e comunque altri club lo hanno cercato ovviamente lui non se ne è curato non ha fatto mai una questione economica ha sempre fatto una questione che vuole sapere quale sarà il progetto del prossimo anno e comunque sia ci sta che non vuole ripetere gli sbagli dell'altro anno cioè non l'altro anno però l'ultimo anno della juve stabio sia il secondo non vuole ripetere quello che è stato in serie b ossia lo sbaglio totale una società che magari non ha costruito bene una squadra e comunque sia ci sono stati dei sbagli e sbagli che comunque sia poi dove portano a dare la colpa sempre e solamente al mister perché comunque sia i giocatori vanno male colpa del mister non hanno mentalità colpa del mister qualsiasi cosa che succede sempre colpa del mister quindi il mister è sempre comunque quel ruolo che va a rimetterci qualsiasi cosa che succede in campo vuoi o non vuoi comunque sia il mister appunto l'allenatore è veramente un ruolo difficile perché non si sa come mai da il presidente ai giocatori sempre la colpa al l'allenatore arriva vuoi o non vuoi sempre così è una cosa assolutamente sbagliata perché comunque sia ci deve essere che comunque deve un allenatore essere supportato da una società e dai i propri giocatori appunto dove sta la colpa di un mister che se ne va perché la società non gli da quello che chiede dove sta la colpa di un allenatore che magari va via perché i giocatori non li seguono ce ne sono tanti di casi ci sono tanti di esempi nel mondo del calcio che hanno appunto fatto ciò io dico che è importantissimo che il mister abbia un'idea chiara io dico che la società deve supportarlo e io dico che i giocatori devono seguirlo laddove manca una di queste tre situazioni è normale che comunque sia un allenatore che magari potrebbe rischiare quest'anno in serie b ci pensa dieci volte prima di fare ciò perché ricordiamoci che per caserta sarebbe la seconda esperienza negativa in una serie b gli farebbe veramente male a livello di carriera e quindi di conseguenza è normalissimo che uno ci va a pensare ma no che poi la società è poco chiara no che dentro la dirigenza una persona dice una cosa un altro ne dice un'altra e magari il presidente un'altra ancora non che comunque sia c'è questo squilibrio squilibrio che c'è stato anche l'altro anno anche santo padre se stesso l'ha detto e l'ha dichiarato ricordiamoci che caserta quest'anno è stato completamente abbandonato si è preso le responsabilità di tutto quest'anno io ho sempre visto caserta sempre davanti tranne la partita del cesena che gli è stato imposto dalla società di non apparire e non dichiarare appunto nulla ragazzi ci ricordiamo cioè ragazzi non dimentichiamo le cose non dimentichiamo il bello se il fatto che caserta ha chiesto dei giocatori del fatto che ha chiesto il mercato è per fare meglio perché uno come caserta non va a fare presenza in serie b non è che si gratta le cosiddetti e sta lì per giocarsi che cosa una non retrocessione lottiamo per la non retrocessione di che stiamo parlando se poco poco conoscete caserta non si accontenterà assolutamente di una non retrocessione quindi conseguenza ha chiesto un mercato appunto per agevolare quello che lui vuole fare perché lui in serie b se ci viene con noi e adesso ormai è troppo tardi se ci veniva con noi non veniva per nulla non veniva per far presenza veniva per fare quello che noi abbiamo sempre voluto dal perugia ossia playoff ossia andare in serie a cosa succede la realtà ragazzi è diversa voi che siete tifosi leggete i giornali state prendendo e state leggendo e date per vero tutto quello che voi leggete e sono ve lo posso assicurare io che le cose le vedo da vicino io ho un rapporto diretto con certe fonti che praticamente sono tutte merite cazzate il fatto che caserta tentennava per una possibile esperienza al benevento perché magari gli ha promesso un determinato progetto o altri club sono tutte merite cazzate il fatto che lui non ci pensa proprio voleva il progetto del perugia da partita tutto quello che leggete nei giornali non è vero tutto quello che santo padre adesso sta facendo scrivere ossia il fatto che è lui che non è il presidente che non lo voleva più ma bensì è caserta caserta è lo stronzo del quartiere che va praticamente a cercarsi un'altra società per fare meglio per fare un progetto più ambizionista eccetera eccetera di che stiamo a parlare proprio delle cazzate delle cazzate del buon costume che il nostro patron sta appunto innescando affinché cada in cattiva luce il nostro mister caserta ditemi voi che vi dice la testa di andare adesso tutti a branco contro caserta semplicemente per dei giornalai che stanno dicendo del falso che io so per certo perché comunque sia io conosco la verità nel vivo non per sentito dire come molti tifosi che comunque non hanno la possibilità di avvicinarsi alla situazione alla realtà e leggono dei giornali degli articoli ma voi non dovete credere alle cazzate che adesso stanno andando in vendita che questi sono articoli da niente che vengono così ma andati avanti da chi da chi vuole mantenere il buon costume punto e basta ragazzi ma la realtà è completamente differente non è assolutamente questo il vero e io devo capire io continuo a ripetere che non ho capito che cazzo vi dice nel cervello di dimenticare un allenatore che comunque in serie c vi ha fatto vincere cioè abbiamo vinto un campionato e voi e anziché anziché essere grati a un allenatore che comunque sia è comunque nell'albo dei mister del record della nostra squadra che cosa fate voi? ne parlate male ne parlate che è un traditore eccetera eccetera a me sono un concesso che il mister è diverso dal giocatore e anche i giocatori al giorno d'oggi anche se se ne vanno via fanno il loro lavoro e non è detto che gli interessa la maglia ma giocano per giocare quindi dove c'è la possibilità giocheranno a me sono un concesso che i giocatori di questo stampo non ci sono più e ha maggior ragione anche i mister fatto sta ha fatto un bel lavoro fatto sta comunque ci ha vinto il campionato e fatto sta voleva far bene anche il prossimo anno fatto sta che i giornalai come li chiamo io hanno detto del falso falso rispetto alla realtà che io so da vicino e voi vi state facendo abbindolare da tutto ciò la stessa cosa è successa con i manichini di falzerano ma ancora non l'avete finita voi parte della tifoseria a essere assolutamente estremi nella parte poi sbagliata perché state facendo un gioco contrario perché la realtà non è questa la realtà è che voleva rimanere io so solamente che questa cosa non è potuta succedere io so che come nomi tra l'altro ci sono nomi papabili come Longo, Diana, Scienza e poi c'è anche appunto Alvini Alvini che se ne parla come Caserta ora non conosco Alvini per carità di Dio però l'unico potenziale che lui ha avuto è di fare bene alla reggiana e quindi è un altro esperimento un esperimento che in serie B non puoi fare perché comunque sia serve comunque continuità dobbiamo fare bene e non retrocedere cosa che poi se noi facevamo con un allenatore che già conoscevamo da un anno che comunque abbiamo conosciuto che abbiamo fatto una serie C abbiamo vinto un campionato sarebbe stata tutt'altra cosa anziché diciamo affidarci a questi nomi che vengono detti tra l'altro come i nomi c'è anche i bocchi ma voi mi spiegate mi spiegate nel momento in cui Caserta ancora doveva decidere nel momento in cui ancora era un ballo Caserta per noi, per il Perugia mi dovete spiegare perché con molto si è dovuto vedere con bocchi mi spiegate per favore questa cosa mi spiegate perché non c'è chiarezza in questa società ma il problema che sarà solamente i giocatori e dei mister solamente i giocatori e i mister sono dei bastardi tra virgolette e no, e no sta cosa no finché lo fai una volta bene due tre ok ma mo ma mo davvero davvero non è che so deficiente le cose le capisci le cose le capisci e spero che più tifosi possibili capiranno questa cosa qua perché comunque sia non è così non è così le cose non sono regolari sinceramente sul fatto di non avere una società solita mi sono veramente rotta il cazzo veramente e soprattutto chiarezza chiarezza a noi tifosi chiarezza a noi che siamo tifosi e che appunto ti siamo in questa squadra non siamo solamente i deficienti che vanno a comprarsi la maglietta da Frankie Garage sono tutte quelle persone che comunque ti amano vivono completamente Perugia e la città di Perugia quindi di conseguenza io chiedo di non essere presa per il culo perché comunque sia laddove io ho la fortuna di sapere veramente come sono andate le cose mi gira il cazzo mi gira il cazzo e io voglio assolutamente la verità verità che comunque sta omessa e che non uscirà mai fuori voi tifosi che non potete sapere la verità non mi gira il cazzo mi gira il cazzo e io voglio assolutamente la verità verità che comunque sta omessa e che non uscirà mai fuori voi tifosi che non potete sapere la verità non potete sentire certe determinate persone voi vi avvalete di leggere dei quotidiani quotidiani che diranno sempre il falso a prescindere dai quotidiani io devo capire veramente dopo questa vicenda che Comotto fa una cena si vede con bocchi una situazione dove caserta deve decidere il suo futuro e sta aspettando un progetto dalla società mi sembra il quanto un pochino ambiguo che dite comunque sia chiudendo questo discorso voglio parlare di caserta allora io ho dato il 100% al mister perché tutt'anno un progetto dalla società mi sembra il quanto un pochino ambiguo che dite comunque sia chiudendo questo discorso voglio parlare di caserta allora io ho dato il 100% al mister perché tutte quelle persone che entrano a far parte di noi comunque io do il 100% dopo nel percorso valuterò se diminuire la fiducia o mantenerla ecco caserta è sempre stato quel ragazzo quel ragazzo perché è molto giovane di darmi fiducia assolutamente all'inizio io sapevo nelle prime partite che non è andata alla grandissima però sapevo che doveva assolutamente ingranare quella che era la sua mentalità e così è stato lui non ha mollato mai io mi ricordo minimo per minimo i suoi eforismi e il fatto che lui lo voleva tirar fuori il 100% ai giocatori anche se non erano perfetti anche se avevano dei certi limiti lui avrebbe portato il massimo di quei giocatori questa frase mi ha colpito in maniera assoluta e ci ho sempre creduto in lui anche quando dice io non mi stavo arrendendo a quattro giornate del campionato e quindi di conseguenza io devo devo tutto assolutamente a questo mister che mi ha fatto vincere un campionato che abbiamo condiviso gioie e dolori siamo stati un unico blocco noi tifosi lui mister e i ragazzi i nostri ragazzi e solamente per il pensiero mi viene da emozionarmi perché veramente noi eravamo tutti all'unisono quando c'erano veramente dei momenti critici dove c'erano delle sofferenze veramente dei momenti siamo stati in male tutti quanti insieme come siamo stati benissimo e appunto eravamo completamente felici di vedere appunto il Perugia vincere quella era la gioia assoluta con il nostro gruppo molto unito appunto del nostro della nostra squadra i nostri ragazzi e anche lui come mister e comunque sia veramente eravamo un'unica forza siamo stati una forza anche quando abbiamo reagito abbiamo tirato fuori la forza noi tifosi gliel'abbiamo data fuori lo stadio e loro l'hanno percepita all'interno dello stadio nonostante il fatto che c'era una sofferenza il fatto che non siamo stati lì proprio dentro lo stadio il fatto che noi non potevamo festeggiare con i nostri ragazzi alla festa diciamo del campionato vinto ma purtroppo l'abbiamo dovuto seguire in una diretta di instagram ma eravamo tutti lì tutti noi tifosi eravamo lì eravamo pazzi tipo io che andavo da Angela a Falzerano da cioè andavo a fare i giri appunto di tutte le dirette che c'erano perché purtroppo quando loro sarebbero arrivati a Perugia non si poteva festeggiare con loro perché era troppo tardi e purtroppo questa situazione covid ci ha comunque penalizzato anche su questo punto di vista e è stata diciamo una vittoria dolce amara diciamo ma tutto questo io devo devo assolutamente grazie a Fabio Caserta Fabio Caserta è stato il capitano e ha mandato avanti questa nave io sinceramente non dimenticherò mai mai assolutamente tutto quello che lui ha fatto per la nostra squadra dove lui ha fatto meglio e ha perfezionato laddove noi sbagliavamo in modo tale che vincevamo il campionato e che per fortuna è riuscito a riportarci in serie B in un anno quindi io questo gli devo grazie perché comunque sia per noi militare in serie C è stata veramente un incubo totale e lui ci ha tirato fuori da questo incubo io sarò sempre grata a lui sarà sempre un mister che io non dimenticherò mai nella storia del Perugio perché lui ha segnato e ha scritto una pagina di storia una piccola pagina di storia mal scritta ragazzi che cosa dirvi per me l'unica nota stonata è stato un presidente che ci ha abbandonato per tutto un anno e dopo viene solamente per il giorno del festeggiamento nel giorno del campionato vinto prendersi meriti e quant'altro molti tifosi hanno dato merito alla fine a Santo Padre hanno dato contro a Caserta e sono anche molto favorevoli ad Alvini ora io vi dico e vi do questo quesito mi scriverete sotto nei commenti contenti dell'operato di Fabio Caserta contenti o no pro contro Caserta pro contro Santo Padre e questa società vi sembra solida o non spiegate voi ditemi appunto il motivo sotto nei commenti ditemi che cosa ne pensate voi di tutto ciò fatto sta io sarò sempre e solamente con Fabio Caserta dalla vostra diva alla prossima